A Busto Garolfo l'arconatese ospita lo sporting Franciacorte in una gara chiave per il futuro playoff delle due squadre. I padroni di casa sono quarti in classifica con 53 punti e vanno a caccia dell'aritmetica. Gli ospiti invece, quinti con 49 lunghezze, cercano di accorciare proprio sui giallo-blu. L'inizio della partita non è movimentato con le squadre che si studiano e provano un paio di incursioni, qui una gran rovesciata di Mozzani che ha respinta in due tempi dalla retroguardia di casa. La prima chance vera del match capita al dodicesimo con Menegazzo che, involontariamente servito da Moraschi, sfiora l'incrocio dei pali difeso da Plecheru. La risposta pronta dei Bresciani arriva con Ravasi che approfitta di un errore di Robbiati, scavalca Cordaro ma trova Bianchi appostato a centroarea a respingere. Ancora ospiti pericolosi con una girata di testa, tentata e facilmente bloccata da Cordaro. Poco più tardi è l'arconatese a sfiorare il vantaggio ma ancora una volta Marcone pecca di precisione. La chance più interessante del primo tempo per quanto riguarda i Bresciani capita a Ravasi che gira di testa un gran cross di Moraschi dalla destra, pallone respinto. Poco più tardi si scrive alla partita anche Bertazzoli con questo destro respinto ancora una volta dal portiere dell'arconatese. Arconatese che in questa fase del match fatica molto mentre i due attaccanti della Franciacorta Bertazzoli e Ravasi si trovano bene qui a concludere Boschetti sinistro centrale bloccato dall'estremo di casa. A farsi vedere ancora una volta dalla parte dei gialloblu è Marcone questa volta il suo mancino è centrale ma è il preludio al gol che arriva al quarantesimo. Una magia assoluta di Ferrandino che su un lancio dalla retrovia controlla il pallone lo appoggia perfettamente perché essa stop e destro perfetto all'angolino a battere l'estremo ospite. Sesto in campionato per l'ex castellanzese e 1-0 meritato per l'arconatese con l'abbraccio di Livieri. Il vantaggio dei gialloblu dura soltanto quattro minuti perché poco più tardi arriva appunto il pari del Franciacorta con una gran botta di sinistro di Boschetti che trova al quarto centro in campionato e regala il pareggio alla formazione bresciana a un minuto dal termine del primo tempo. Un episodio che potrebbe tagliare le gambe ai gialloblu che però nella ripresa iniziano benissimo con questa combinazione Kessa-Ferrandino-Kessa. Kessa pescato in fuorigioco ma che conclusione del numero 7 che fa la barba al palo. Poco più tardi la pronta risposta del Franciacorta. Una grandissima giocata da parte di Bertazzoli. Il suo destro termina però largo. Una giocata che sarebbe valsa un gol meraviglioso. Al 56esimo miracolo assoluto di Plecheru su Bianchi mentre al 65esimo arriva il vantaggio dell'arconatese con una magia totale di Mario Kessa che aggancia un pallone servito gli da Menegazzo e con il destro al volo batte Plecheru per la rete del 2-1 e la rete anche della vittoria dell'arconatese nel finale. Il Franciacorta prova con un paio di assalti a cercare il gol del pareggio che non arriverà. Arconatese aritmeticamente ai play-off per il Franciacorta invece ci sarà ancora da sudare.